La Consiglio di Povelezza è una squadra forte secondo me, perché oggi penso di aver visto la Semmelitese che non ha creato occasioni importanti, al di là del fatto che in 90 minuti abbiamo dato due ripartenze, ma credo che sia normale. Quindi abbiamo due giorni per preparare un'altra partita e adesso vogliamo andare a Imola a cercare di fare più punti possibili. Però è innegabile che c'è differenza tra il rendimento visto nel primo tempo e quello visto nel secondo. Che cosa è successo? Avete accusato la fatica o qualcosa? Ma io non credo, perché secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto un quarto d'ora alla grande dove abbiamo chiuso la Semmelitese nel loro metà campo. È normale che 90 minuti come abbiamo fatto i primi in primo tempo, secondo me è impensabile poterli condurre. Però non credo che abbiamo poi fatto questo calo fisico drastico, diciamo. E allora come mai vi siete allungati così tanto in campo? È normale, perché loro hanno fatto entrare tre giocatori davanti molto veloci e quindi attaccavano molto bene la profondità.